Ho dato facoltà, ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di sette conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Eccole, eccole. Sono tutti di clausura. Oh, no, 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 poi... Oh, no, no, poi... Dopo... Guarda qua, va. Ma come ho fatto? Sorelle dopo, ma... Guarda qua, ma guarda qua. Sorelle dopo, ma... E questi sono i clausuri, figuriamoci quelli non clausuri. Che cosa succede? Allora, allora... Ah, eh, eh... E chi lo so mangia nella domanda? Vedete? Sorelle? Sorelle? So... Sorelle, tenimi che fa? Sorelle, ahia, ahia, annaggia che... La stai messo? Che la, che la, che la...